ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie s fifa 18 ho visto le partite che ci sono in questi video qua cioè per quanto riguarda questo mese qua ho visto che giochiamo tre volte fuori casa e tre volte in casa quindi direi che quella in casa le simuliamo tutte e quella invece in trasferta lo giochiamo a meno che una di queste vision sia veramente bassa in classifica e lo stesso discorso vale con quella in casa se non ci ho fatto caso le partite cioè le squadre con cui giochiamo ovviamente il discorso che c'è scritto poi a destra in trasferta in casa e il discorso è uguale però chiaramente in maniera opposta quanto riguarda le partite in casa dovessimo giocare che ne so contro la tre bar lei per di che quarto anche se giochiamo in casa e magari la gio quindi vediamo un po tanto l'oldem vecchio prosciutto no è tristissima però vabbè che aveva a dirlo vediamo come ha messo infatti è qui e allora si simula stando discorsi che ho fatto prima direi che le possibilità toccandomi di far punti ci sono da vedere si inizia subito male il video gomez voi dal primo minuto così la sblocca buono eh ma è lunga edwards buono al 67esimo 2 a 0 buono seppur simulando la partita inizia bene questo video con un buon 2 a 0 buono 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 addirittura guardate un po l'oxford ha pareggiato noi siamo a cinque punti seconda partita giochiamo contro il magico mansfield io l'ho deciso sempre mansfield che nascosta stagione è la squadra che insomma hanno lottato per innanzitutto per la promozione poi che vince il campionato alla fine ce la fecero perché hanno vinto loro il campionato la football league su e niente vediamo dov'è perché all'andata cioè quando becca all'andata era messo abbastanza bene se non sbaglio era terzo o quarto non me lo ricordo adesso invece quanto pare è un piano calato però rimane sempre lì nelle posizioni alte che loro lottano per un eventuale posto promozione sono settimi un punto da playoff quindi sono molto in corsa speriamo di bloccarli no perché giocando in casa mi sentono sta tutto di simularla via andiamo un po' gomez ancora una volta però stavolta dopo cinque minuti non dopo un minuto aioh bucce robacce non lo so al venticinquesimo pareggio per il mansfield aioh cerottino per sila ma go di velasco che fa il velasco penso giochi perché hit è squalificato van bergen tra uno buono abbiamo alla fine chiuso la partita all'ottantunesimo con van bergen speriamo che sila non sia fatto male fra l'altro uscito proprio bene e invece un po si è fatto male strappo al porpaccio sei settimane ecco mi vorrei un attacco che cazzo ci gioca allora guardando un po come siamo messi e che abbiamo in panchina come riservi direi di far così allora van bergen lo schiacco qui perché anche se non è vero un proprio attaccante a differenza di magari altri giocatori no che un giorno al centrompo comunque è blu e non è verde come ad esempio un centrompista il pallino insomma per capirci e quindi lo schiocco van bergen momentanemente in attacco poi schiocco gomez a sinistra perché anche se non è solo ruolo però c'è c a s a d c c e qui ci schiocco santa maria dell'uno se posso fa speriamo che rientro possa essi più breve di velo che realtà c'è scritto di sila anche se la vedo bigia che sono messi di vediamo il minimo 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 metà mesi prossimo ovvero metà aprile però speriamo comunque terza partita rigiochiamo in casa ecco questa diciamo che un po sbilanciato e che pensavo dopo due partite a meno arte di gioco invece no e qui si assimola simola da in casa si simola via dipendentemente da come sono a parte che sono più bassi forse forse anche del mansfield ora non mi ricordo con precisione però siamo bene speriamo che anche senza sila possiamo fare gol che ultimamente sila facciamo subito attenzione proprio van bergen il sostituto il so si sono ancora van bergen ma io ho scoperto un nuovo bombe ma buono sono soddisfatto no però sono contato 3 a 0 van bergen incredibile ora sono soddisfattissimo un 3 a più si la rimane fuori no scherzo no era un po' titubante però buono va a 3 a 0 addirittura gomes però niente mi hanno hanno sbugiardato meno male in senso positivo chiaramente buono buono tre partite tre vittorie si ta 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 no non ci vedo un'altra partita in casa no ormai sono curioso ma ho visto i tre in trasferta lo si uno l'oldem a casa 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 trasferta trasferta vabbè ci sono le ultime due e scusate lo so non è bellissimissimo vedere tutte le partite simulate però ho detto si mi ricordavo invece che fosse il classioso trasferta casa trasferta casa trasferta casa trasferta casa invece a quanto pare adesso ti aspetta casa 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 e vabbè simuliamola un che non si una sola voglio vedere ragazzi siamo a 75 punti con una partita in meno siamo primi e ci sono ben 9 punti di stacco a rochdale perché l'oxford è calato in classifica 65 e niente già c'è 9 punti che potrebbe diventare benissimo 12 giù hanno fatto un po la botta eh speriamo un tocchio a noi ora ma io ho cerottino per santa maria infatti è stato subito sostituito comunque 0 a 0 sempre eh insomma e no alla fine ho pregiato per sbaglio il triangolo quindi mi ha finito la partita mi ha simulata completamente comunque abbiamo vinto 1 a 0 all'ottantesimo abbiamo fatto poco adams buono sinceramente ho diciamo avuto un pochino di favore che ho detto non si fa niente poi ho visto uno sbottere i cambi perché vedrai i giottori erano stanchi ho detto poi quindi sono entrati comunque i giocatori qualitativamente inferiori rispetto ai titolari ho detto io eravamo a finire che si perde e si pareggia invece meno male adams è così all'ottantesimo l'ha sbloccata e abbiamo vinto olè allora eccoci arrivati da dai a una partita in trasferta in seguenza si giova e mi guarda il banca a me giova alle partite indipendentemente dalla categoria oddio mi guarda più giova alle partite magari dentro squadre straforti eh in questo caso magari di premier league per quanto riguarda l'inghilterra però anche gioca così ogni tanto le squadre del campionato in cui milito no non mi dispiace comunque voglio far vedere la rosina siccome di fra gente rotta gente va in nazionale bla 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 speccava tanto vedete tutti vestiti uno due tre quattro cinque siete ho dovuto prendere i giottori a casa svincolati dei questi v 58 60 petrasso 58 o meglio nemmeno assanna ma chi è ma chi sono insomma e quindi nulla giovevamo questi giottori v boh mettiamo u almeno o serena quant'anni ha quell'altro venti che poi cosa cambia u no si mette 19 u e niente la faccio così vai attaccante e niente bisogna giova così insomma e detto questo iniziamo e speriamo bene eh vai adams come s mamma mia cosa aveva fatto però tu hai nemmeno sui piedi boh ha scoppiato la traversa lì bella roba prereto se c'è già da modino la puntata dentro dopo quasi quattordici minuti la sblocchiamo così con un gran gol di breve non tanto per il tiro che già quello comunque sto buono per quello che non è di mezzo piede che teniamo un bel sinistro ma proprio per il movimento e andiamo 1 a 0 no no che zotta brutto frente boh così è tutto da rifare dunque si libera dell'avversario vai brereton è buono peccato di accidente a quel sinistraccio dei boh è un piccionaia la buttata ma gomez eccolo lì anche il gomez 2 a 1 sembrava più un tiro da carcetta anche che in realtà non è stato però l'ha fatto è preciso preciso era su terra poi da solo marcava nessuno bene così 2 a 1 e facciamo anche un cambio tanto più fa girando la squadra vai vai rientra a posto dei mani attenzione mamma mia ma stavano per riaprire come si latera era già chiusa da abbastanza comunque finisce così tur.1 direi che c'è andato abbastanza bene, non perché loro abbiano fatto chissà cose però si coprimano abbastanza bene e niente, abbiamo trovato in maniera per metà fortunosa il gol con Gomez quel gol che io ho definito anche se in realtà non è una cosa giusta da dire però stile a calcetto e niente, buono un'altra vittoria andiamo a fare l'ultima partita del video e di conseguenza del Messi giochiamo contro il Rotterdam dopo pochi giorni, vince anche la stanchezza sotto il problema di 80 giocatori che non ci sono perlomeno, che non ci dovrebbero essi vediamo se invece è tornato qualcuno abbia tornato a Santa Maria che si era fatto male per 7 giorni, per il resto no, non c'è nessuno però no, rimetto mi fido a far giocato a Santa Maria e rifaccio la stessa cosa di prima così si va bene per che ci sia grandi scelte la nostra speriamo che non si faccia male cosa perché non c'è uno portiere perché l'unico portiere che abbiamo in riserva Chignones a quanto paere è nazionale comunque adesso mi fa piacere poi mi chiedo se si pensa alla partita è che nonostante siamo ne lascia uno in inglese tanto è una bomba e la qualità non sia altissima allora se mi sorprende e comunque mi fa piacere è che tanti giocatori vanno alla nazionale se le facevo ma come si è buttata dentro anche Gomez alla prima vera occasione di questa partita di un sequenza di primo tempo anzi poi si era meglio dire l'opposto insomma si butta dentro e lui più che altro la butta dentro Ale 1-0 la sblocchiamo così uh mamma mia rischiato di fare il gol comunque facciamo un cambio vabbè Kim così che se ne è attaccante si mette sulla sinistra fa rispettare un po' Van Bergen Adams boh peccato dell'ha tirato la posizione centrale perché la potenza c'era peccato un po' di precisione non ci credo e invece mi tocca a vederla anche se non ci credo vabbè facciamo un cambio si boh rendiamocene onto da rischiare di fare 2-0 se poi se il gol del 1-1 monedetta la miseria attenzione uh uh Gomez eccolo lì anche Gomez 2-1 e andiamo di torniamo in vantaggio ma comunque tutti i meriti e comunque in gran parte il merito del gol va a uh che ci ha creduto ha pressato gli avversari non so se fosse il difensore ma comunque ha pressato loro sulla destra e niente ovviamente sulla loro destra niente ha tolto palla e poi ha fatto a cosa ne pare ha passata ha passato a Gomez nel mezzo che meno male di precisione il piattone resto l'ha buttata dentro 2-1 torniamo in vantaggio guardiamo anche di rimanerci dato che manca anche po' fra l'altro attenzione no niente buono sì ok e andiamo non è stata una partita sicuramente semplice anche se di occasioni vere e proprie sia da parte nostra ma in questo caso parlando di loro no non è semplice non ce ne sono state resta di fatto che però la partita si era messa su binari strani insomma non so se avete intravisto velocemente purtroppo ho sbagliato ho preso un x veloce le statistie cioè alla fine non avevano fatto vattro tiri loro due nel senso non è stata una partita strabella però il problema è che loro si chiudevano abbastanza bene quindi in tutto sommato non era semplice appunto però bene così dato che c'era ormai ho preso anche un altro svincolatone Milano però l'altro mi pare che non ho già avuto uno che si chiamasse Milano ho preso svincolato e dato via dopo po' scambiandolo fra un altro giocatore e niente nulla se tenevo a farvelo vedere comunque sono arrivato aprile e il video finisce però prima di arrivare alla conclusione voglio farvi vedere come siamo messi guardiamo la classifica anzi no guardiamola tutta perché così si vede anche quanto abbiamo di stacco dal settimo posto che poi l'obiettivo da 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 escludi ecco nel senso di arrivare eventualmente sopra al settimo posto in questo caso sesto quinto quarto terzi se onnebolando comunque vabbè ci sono ben 25 punti dalla settima 25 dalla sesta 22 dalla quinta 20 dalla quarta ormai di tutti 16 dalla terza e 12 dalla seconda ragazzi siamo a 12 punti dalla seconda cioè veramente clamoroso nel giro di due mesi abbiamo ribartato tutto creavamo se non sbaglio da inizio video precedente da inizio video precedente se ondi sotto all'oxford di poi punti comunque ma adesso siamo dall'oxford ben 16 punti di stacco e dalla seconda che adesso è il rocci dei anzi adesso da prima è il rocci dei ben 12 punti calcolando che mi pare in totale le partite siano 46 cioè abbiamo diciamo 4 partite di vantaggio rispetto alla seconda quindi cosa voglio dire con questo voglio dire che a seconda di come andranno le prossime partite sia per noi che per loro forse già nel prossimo video possiamo ripeto forse andare direttamente in championship di una sequenza festeggiare nel prossimo video tra l'altro che in quanto riguarda proprio magari non so dovesse perdere tutte siamo già qualificati eventualmente per un discorso playoff perché appunto le partite che mancano sono 7 di una sequenza punti massimi che possiamo fare sono 21 cioè punti diciamo in gioco sono 21 abbiamo 25 punti dalla settima quindi in sequenza proprio malevada i playoff le facciamo speriamo di no speriamo di andare direttamente su insomma niente in realtà per andare su per essere per andarci diciamo in maniera ufficiale guardando la terza e che la seconda sai ci va uguale magari ovviamente c'è il rischio non vince il campionato ma è l'obiettivo secondario l'obiettivo primario è quello andare su proprio direttamente quando ci sono 16 punti basterebbe vincere due e loro sarebbero ben bene comunque anche se loro avesse vincere due noi vinciamo due automatamente siamo in championship si è resta quella di football league no in championship quindi morale della favola morale del discorso anzi zucco il discorso vale che nel prossimo video se noi continuiamo a vincere anche se quelle sottovincono possiamo festeggiare la promozione via speriamo bene speriamo fra l'altro di vincere il campionato insomma detto questo niente vediamo vanti partiti ci sono 5 partite anche qui poi vedremo cosa fare a livello di simularle o meno niente veramente bravi bimbi bravi bimbi intanto i miei giocatori si sono comportati bene perché sai quando giuo io ok alla fine si lo controllo io perché altro in questo video abbiamo simulato parecchie partite quindi vuol dire che si sono comportati bene loro insomma basta mi chiedo vi lascio prima di lasciarvi le solite cose se volete lasciate un bene perciare il video condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale così potete mangiare tutti i video che caricherò chiaramente soprattutto questi qua di questa serie qua niente basta vi lascio sto zitto e niente ci vediamo al prossimo video che appunto può essere decisivo insomma vi aspetto ciao ciao